Qualcosa si muove lento sotto questo caos, è una pioggia che si addice e poi altrove neve. Le gocce cadono in traduzione propria, le mani sono manifesti emotivi, la via d'uscita è l'amore, la salvezza è lasciarsi all'amore. E concludo con tentezza, forse era d'estate, la ascolto ancora e ancora e finalmente abbiamo finito di ridipingere tutto, per i libri, entrambi, tutto quello che c'è intorno e bisognerebbe invece lasciarlo fuori forse, dove è già, rendendoci d'amore trasparente, chissà davvero così a pocciapelo, lo faresti con lo specchio da capogiri, sempre unirci omaggi a quel Tarkovski o smettere di preoccuparsi, inquieti per non sentirci definiti. ci siamo in questo è chiaro, chiaro come il nostro pensiero cangiante, ti basta? A me mai, ma a volte saperlo mi sente, poi ci sono le persone e ci sono i movimenti, e se ti raccontassi del voler bene. grazie. 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 grazie.